Ciao a tutti, ben ritrovati. L'idea di questi video è quella di trasmettere qualche nozione didattica a chi osserva, quindi cercare di giocare partite con un po' più di tempo. Qualcuno mi chiedeva di giocare sui 10 minuti ed ecco qui. Quindi partire da 10 minuti dove il mio obiettivo è cercare di darvi qualche nozione didattica che riguarda l'apertura e il mediogioco ma anche il finale. Gioco una linea principale, il gambetto di donna. Sistemo un po' la grafica, vedo che la scacchiera è un po' più piccola del solito, quindi cerco di sistemarlo un po'. Gambetto di donna, apertura nella quale il bianco cerca di conquistare il centro attraverso il sacrificio di un pedone. come in tutte le apertura il sacrificio di pedone e in questo caso del bianco vuole portare, vuole creare iniziativa a cercare di portare tutti i pezzi verso il centro. Il mio avversario ha fatto una mossa strana, questo alfiere f5 è sicuramente una mossa particolare, strana, che il più delle volte è un errore. Quando l'alfiere lascia il lato di donna dietro di lui si trova sempre una debolezza in b7, quindi in questo caso l'idea di attaccare quel pedone potrebbe essere un'idea interessante per quanto mi riguarda. Donna b3 subito cattura la mia attenzione, effettivamente la mossa che giocherò, però la gioco dopo aver cambiato al centro. Io catturo, se lui mi riprende, riporto il cavallo in avanti e a quel punto donna b3 potrebbe essere un po' più forte. Ok, cavallo in f6 vuole senz'altro recuperare il suo pedone di svantaggio, il gambetto iniziale l'ho fatto io ma adesso il pedone in meno lo ha lui, vuole cercare di portare i suoi pezzi verso il centro attraverso cavallo per d5. Continuiamo, cavallo c3, il bianco dirige i suoi pezzi verso il centro e l'idea è quella di mantenere un contatto su questo punto d5. Punto e contatto con d5 è relativo perché effettivamente lui riprende di cavallo e adesso non mi resta altro che cercare di creare noia sulle case chiare. Donna b3 riesce in questo attacco la debolezza b7 che è rimasta dietro, attacco comunque mantengo un nuovo contatto sul punto d5. Cavallo per c3 è la mossa che mi aspetto, mi aspetto qualcosa del genere, il cavallo cattura in c3, io riprenderò di pedone e qualcuno per il nero dovrà difendere il punto b7. Quindi qui posso tranquillamente seguire il primo ugo. Alternativa, quale potrebbe essere un'alternativa? Non esiste un modo per difendere entrambi i pezzi, però esiste un modo per difendere b7, ossia portare il cavallo in b6. Considero come migliore esatto quella che lui ha appena giocato, quindi la cattura del suo cavallo in c3, io riprendo di pedone e quel punto b7 soffre adesso ma soffrirà un po' tutta la partita. Facendo delle considerazioni pratiche, durante il corso della partita ci sarà sempre un pedone che si trova un po' più avanti degli altri, in questo caso il pedone più avanzato è un pedone centrale che si trova lì in d4 e il pedone più avanzato suggerisce e propone la propria strategia. Che significa? Ogni volta che voi avete un pedone lì al centro della scacchiera probabilmente la vostra strategia, la ricerca di mosse, l'iniziativa dovete cercarla sul colore opposto. Il mio pedone è su casa nera e allora la mia iniziativa deve essere su casa chiara. Dunque quest'alfiere lo vedo bene sia in c4, lo vedrò bene in b5, così come anche mosse particolari, dato che devo cercare idee su case chiare, donna b5 mi viene anche in mente. Come sappiamo l'ideale è cercare sempre di sviluppare tutti i pezzi e creare armonia. L'unico modo per creare armonia è che tutti i pezzi abbiano un ruolo. Effettivamente questo cavallo in f3 prepara l'arrocco, è una mossa facile, non serve pensarla troppo e comunque si dirige da qui verso il centro. Cavallo e5 è un'ottima collocazione per quel cavallo. Cosa dovrebbe fare il nero? Evitare che il mio cavallo facilmente riesca a saltare qui al centro. Come potrebbe farlo? Sicuramente con cavallo di 7. Ok, dato che lui non ha evitato il salto in e5, vado un po' contro i principi dell'apertura. In tutte le aperture sappiamo che muovere più volte lo stesso pezzo è quasi sempre controproducente, è quasi sempre un errore, dovremmo cercare di evitare di farlo. Ma in questo caso cavallo in e5 mi prepara e mi aiuta nel creare un'idea tattica. Ricordate qualche minuto fa, qualche istante fa, dicevo di giocare sulle case chiare e quindi quel cavallo in e5 è così fastidioso che semplicemente dopo uno scacco in a4 diciamo porterà il nero in una posizione complessa perché o decide di spostare il re e a quel punto sono soddisfatto di quanto raggiunto perché il suo re resta lì al centro della scacchiera oppure in caso di cavallo d7 avrei proseguito con cavallo c6 fissando quel mio cavallo in una casa debole avversaria e nessuno più l'avrebbe rimosso. Ok, il mio avversario decide di giocare con il re f8, quindi svincola i suoi pezzi del lato di donna da ruoli difensivi e decide di spostare il re. Come possiamo valutare questa posizione? Chiaramente il fatto che io da bianco possa ancora arroccare e ho la certezza che il suo re resterà al centro un po' tutta la partita, questo senz'altro è un favore è grande che lui mi ha fatto, è un grande vantaggio, posso cercare di impostare la mia strategia in modo complesso semplicemente perché il suo re è lì al centro della scacchiera. Come proseguire? Chiaramente se vuoi ottenere un vantaggio do sicurezza al re, a quel punto apro il centro contro un re al centro dobbiamo aprire il centro della scacchiera. Alfiere per cavallo potrebbe essere un problema? Ok, sì e no. Potrebbe essere un problema perché mi vuole rimuovere un pezzo forte, perché quel cavallo si trova nella metà scacchiera avversaria in una posizione molto attiva e quindi potrebbe dare un po' di noia per questo motivo. E potrebbe tuttavia aiutare la strategia del bianco perché è pur sempre una semplificazione in una situazione favorevole. Ad ogni modo considero che il mio cavallo è così forte che voglio cercare di mantenerlo lì il più possibile e dunque gioco alfiere a3 inchiodando il suo alfiere. Alfiere in a3 è il modo probabilmente più attivo, più concreto ma anche più rapido per dar fastidio al suo re lì in f8. In caso di cattura riprenderò senz'altro di donna. A quel punto mi preparo per giocare in modo tranquillo, voglio giocare f3 e4 per conquistare il centro, ok? Non mi ha permesso di fare ciò e allora questo cavallo lo ripiego, lo riporto indietro in c4 con l'idea di catturare d6. Qualcuno potrebbe dire, ok, magari catturava lui prima in a3, tu catturavi in a3 e la posizione sarebbe stata favorevole e così. Il cavallo in e5 ha svolto il suo ruolo, quindi io cambio tranquillamente in d6 semplicemente perché adesso ho la coppia degli alfieri in gioco con un re abbastanza scoperto. Il centro della scacchiera è libero perché se ci soffermassimo su queste quattro case abbiamo soltanto un pedone, questo significa che il centro della scacchiera è sicuramente libero. Come proseguire? Mi viene in mente una mossa come alfiera 2 che silenziosamente vuole saltare in f3. Ok, perché silenziosamente? Perché se io gioco alfiera 2 sicuramente lui penserà che abbia voglia di arroccare ed anche questo è vero. Quando io giocherò un alfiere in f3 l'unico modo che lui avrà per difendere la torre sarà giocare a d5 ma a quel punto la mia strategia potrebbe essere cercare di giocare contro il pezzo non difeso. Quindi alfiere 2, direzione f3 e in caso di d5 proseguire con c4, aprire il centro. Quando avete una posizione favorevole non vi resta altro che aprire il centro, cercare di aprire la posizione. Ok, alfiere f3 giocata, torre si sposta e allora è il momento di far retrocedere i suoi pezzi. E4 guadagna un tempo, questo alfiere deve andare via. Il mio re va al sicuro e da bianco sono più che soddisfatto sia per l'apertura raggiunta, per la posizione raggiunta, sia per l'apertura giocata. Ok, lui mi attacca per comodità, sposta la donna in b3 lungo la traiettoria del re avversario. Ci sono mosse durante il corso della partita che possono essere anche mosse istintive. Non sempre è necessario calcolare, molte volte ci possiamo basare su queste piccole informazioni che riusciamo rapidamente a percepire all'interno della scacchiera. La donna in b3 è interessante perché punta il re avversario, quindi non può essere una mossa sbagliata. Magari non è la mossa più forte, però sicuramente non può essere sbagliata. A una torre che si posiziona nella colonna c potrebbe corrispondere tranquillamente la mia torre, anche lei che si sposta sulla colonna c. A questo punto mi viene in mente che l'idea potrebbe essere cercare di aprire il centro. Come posso aprire il centro? Perché se io giocassi i5 probabilmente lui chiude. Se io giocassi i5, la differenza è che i5 attacca un pedone centrale, o comunque il pedone che difende il re avversario, ma nel mentre guadagna il tempo sul cavallo. Quindi come vedete queste idee sono facilmente realizzabili e non ho la necessità di pensare troppo. Ok, pedone cattura, sappiamo che un re al centro soffre sempre e allora la mia struttura pedonale passa in secondo piano, catturo di donna. Qui mi aspettavo come unica mossa re in e7, altrimenti alfiere per d6 decisiva. Alfiere per d6 scacco, attacco una torre, alfiere per d6 in collaborazione con la donna controlla tutte le case intorno al re e quindi alfiere e7 è l'unico modo per difendere. Alfiere per c7 di per sé già guadagna la qualità, però dato che è una posizione dove lui non ha tante mosse possibili direi che insisto. Insisto per aprire colonna, aprire spazi. Dunque l'idea di giocare i5 è quella di aprire la colonna f. Ok, lui rifiuta questo cambio e sfrutta ancora l'inchiodatura del cavallo e quindi la mia donna per adesso è a salvo. Lui ha deciso di salvare la sua torre, chiaramente mossa e logica, lineare e la mia idea è quella di aprire la posizione nelle condizioni migliori e la condizione migliore potrebbe essere senz'altro catturare f6 e spostare la donna in attacco. L'alfiere f7 vuole guadagnare un tempo, direi che la mia donna si può spostare probabilmente in e4, non vedo controindicazioni contro su e4, quindi la spostiamo tranquillamente in e4, a volte minaccia la cattura, a volte minaccia la spinta e quindi questa è una posizione che mi piace. L'altra idea di donna e4 era catturare h7, cosa che non so se lui ha considerato oppure anche lui in questo caso ha giocato una mossa istintiva, se anch'io gioco le mosse istintive perché non può farlo senz'altro lui. E a questo punto direi di catturare di donna facendo pressione su e7. Regi8, regi8 è senz'altro la miglior mossa per lui. A questo punto direi di insistere, lui cercherà quanto prima di togliere il cavallo per salvare, per svincolare i suoi pezzi. Direi che la mia torre potrebbe andare qui, indirettamente punto la sua torre, forse è un blunder, perché attenzione cavallo g6 effettivamente troverà due pezzi che attaccano d6 e questa torre che da lontano punta la mia torre, quindi mi vuole togliere un difensore, dopo questo cambio mi obbliga a prendere il torre. Sì, sicuramente è un blunder, dopo blunder errore. Poi molte volte anche con i termini scacchistici si utilizzano tante parole inglesi, tipo blunder. Ok, come posso reagire? Perché se donna g3 effettivamente lui mi cattura, io catturo e poi mi mangia questo alfiere. Dunque, posso probabilmente complicarla in qualche altro modo, per qualche altra via, forse alfiere c7. Proviamo così, fiere c7, anche se lui mi cattura e io mangio e mi darà matto. Ok, mossa spiacevole, era abbastanza sotto controllo questa partita. Ok, acceleriamo e purtroppo ce la giochiamo col pezzo in meno e cercherò di complicare. Era abbastanza sotto controllo. A questo punto direi... ok, fiere qui. Fiere qui, magari punto. È vero che io ho permesso di giocare torre d1, un giocatore che in vantaggio cerca semplificazioni. E adesso, per motivi di tempo, ok, mi sono fatto fregare questa partita. Era abbastanza compresso lui, potevo prendere la qualità, ho deciso di non prenderla. E qui è tutto di nuovo in discussione. Sta minacciando il donna per e3, mossa furba la sua. Quindi qui cerco di... che posso fare per non cambiare i pezzi? Non c'è modo di evitare. Ok, questa devo cambiarla. Direi che lui... ok, c'è una mossa... vabbè, un tentativo furbo, magari questa. Attacco il pedone, mi aspetto a torre per a2. Faccio qualche mossa veloce semplicemente per cercare di sperare, di speculare quanti verbi uno dopo l'altro per salvare la partita. G3 limita un po' il cavallo, mi prepara alla spinta del pedone h, che a volte potrebbe dare un po' di noia. Ok, questo scacco lo diamo. Cavallo f8 è la mossa che mi aspetto. Invece no. E allora a questo punto direi che è il momento di dar fastidio in questo modo. Alfiere c4 è l'altra mossa che mi aspetto. A questo punto inchiodo il cavallo, la minaccia è torre d6 e recupero il pezzo. Da parte sua ci sono scacchi... sì, ce n'è uno. Scacco, mi sposto, scacco, mi sposterà ancora. Il mio re per adesso è a salvo, è abbastanza sicuro. Ok, torre per c3. In realtà è giocabile perché in caso di torre qui lui è ancora il rientro con l'alfiere. Quindi io provo a giocare h4 per giocare h5 e provo a rovinare la sua posizione in questo modo. E adesso inchiodo il suo alfiere perché voglio giocare torre qua. E ovviamente b4 è un'ottima mossa per lui. Ok, inchiodo l'alfiere perché voglio giocare torre qui. B4 è il modo migliore che lui ha per vincere. qui mi sposto. Mi sposto su casa nera per evitare scoperte fastidiose. Ok, questa non l'avevo considerata. Vediamo se è effettivamente così forte. Ho ancora questa. Mantengo esattamente la stessa idea. Dopodiché, se lui mi attacca ancora, l'alfiere lo nascondo qui. Che può fare? Torre 6. G4. Idea h1. Idea h5. Se re h6 spingo e cerco di comprimere il suo spazio. Ok, resta ancora in gioco questo tema tattico. Anche la torre dovrà spostarsi. Magari f4. Non c'è ancora questo scacco. Io magari minaccio qualche scacco fastidioso da quel lato. Ok, è giocato questo scacco. Non me l'aspettavo perché cambia un po' tutto. La posizione è persa. Prima volevo farvi credere che ci fosse compenso, ma in realtà non c'è per niente compenso. Ok, effettivamente non c'era neanche questa cattura. Come posso complicare? Forse questa. Diamo fastidio all'alfiere. Interroghiamo quest'alfiere che deve difendere il cavallo. Ok, interroghiamo ancora. Oppure questa. Comunque uno dei due pedoni riesco a catturarlo. Non ho tempo. 30 secondi contro 3 minuti in una posizione persa. Lui ha questo piano che è molto forte. Cedere è un pedone. Quindi darmi il pedone B per investire le sue risorse. Ok, a questo punto un po' di controgioco forse riesco a crearlo. Attacchiamo. E... Re qua. Idea G6. Forse qualche rete di matto lì in fondo si può creare. Vediamo se assistiamo a uno dei più grandi furti scacchistici della storia. Scacco e attacco il cavallo. Ok, c'era torre 6 matto. Ho fatto una mossa di pre-move in modo molto sciocco perché torre 6 sarebbe stato scacco matto immediato. Che sciocco. E... Questa. Devo attaccare il cavallo e riproporre torre scacco. Se il torre 6 sarebbe stato sì, il matto... Uno dei più grandi furti della storia del gioco degli scacchi. Ed effettivamente adesso ho tutto da rifare. Attacco. Mi ha dato scacco, mi sposto, lo attacco. A questo punto direi così. Lo attacco di nuovo. 18 secondi per dargli matto. Intanto il mio re in opposizione è nella... Nella situazione migliore. Questi pedoni... Ok, intanto scacco. Scacco di nuovo. Il pedone G7 lascia la partita. Se il ref6 c'è matto in una. Ecco qua. Ok. Avete appena assistito a uno dei più grandi furti della storia del gioco degli scacchi. Perché è una posizione prima vantaggiosa per me, poi vinta assolutamente per lui. Si è trasformata in un tema di matto in una. Rivediamo l'apertura. Vi dicevo che il giocatore che lascia troppo presto il lato di donna lascia sempre una leggera iniziativa sul punto B7. In questo caso sul punto B7 perché siamo il bianco. Sul punto B2 qualora fossimo il nero. La partita continua e qui, nel momento in cui gioca B6, potete benissimo essere soddisfatti perché la posizione è chiaramente più comoda per il bianco. E6 per il nero, cavallo E5. Mai muovere più volte lo stesso pezzo in apertura ad eccezione di qualche situazione concreta. Perché il cavallo in E5 minaccia un controllo sulle case chiare e dato che quest'alfiere si trova dall'altra parte della sua muraglia, dei suoi pedoni. Quest'alfiere adesso è fuori gioco, non riesce più a rientrare sul lato di donna e allora riusciamo a creare i problemi. La partita è continuata. Presa la coppia degli alfieri mi devo limitare semplicemente ad aprire il centro. Probabilmente più precisa F3. Gioco F3 e 4 guadagno il tempo. Dunque è andata verso questa posizione qui. E D5 sono soddisfatto di questa mossa perché chiaramente dopo l'alfiere per D6 la posizione è vinta. Donna per D6 chissà, anche meglio. Comunque alfiere per D6. Qui si guadagna la qualità in modo facile però è stata una mia scelta non accettarla con alfiere per C7. Perché alfiere per C7 attacco donna. Quindi se lui mi mangia la mia donna io mangio la sua e alla fine dei cambi. In realtà guadagno più di una qualità, guadagnerò semplicemente una torre. Quindi ho calcolato male. La partita è continuata. Qui gli volevo dare matto. Ma mi sono beccato questa intermedia. E dopo questa intermedia la posizione è sicuramente persa. Per poi, come avete visto, il mio avversario ha giocato delle mosse. Ok, è stato poco preciso. E sono stato un po' fortunato nel cercare di recuperarla. Spero di avervi dato qualche dritta su come giocare il gabbetto di donna. Magari tra di noi c'è qualcun altro che ha giocato il gabbetto di donna così come me. E appuntamento alla prossima.